Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare dei mini prodotti della Qualiterbe e lo faccio direttamente dall'ufficio che troverete ovviamente sul nostro sito che poi vi linko sotto, che sarebbe www.vknatura.it Vi parlo essenzialmente dello shampoo da viaggio piccolino invece di usare quelli degli hotel che fanno veramente schifo questo è naturale, mi sembra che costi 3,90 lo trovate sul sito www.vknatura.it è molto buono e alla lavanda rinfrescante poi c'è il bagnoschiuma alla rosa centifolia che fa molto bene, piccolino, viaggio per le vacanze poi c'è il tonico viso naturale alla lavanda rinfrescante, rinnova la pelle per il mare va benissimo dopo alla sera per rinfrescarvi il viso come idratante e l'acqua micellare per struccarvi se fate serata è unica fa benissimo costano poco 3,90 o 4,90 ora non mi ricordo avete veduto sul sito poi c'è il sieroviso antietà per i vostri genitori non so se mi serve questa è tutta la linea poi c'è il latte detergente da usare tutte le sere tornati dal mare vi toglie tutte le impunità c'è la crema mani e unghie che vi protegge eccola qui da tutto dal sale specialmente in estate crema viso idratante da mettere dopo il sole sempre prodotto vegan ok tutti i prodotti sono vegan ok non sono testati sugli animali e sono di prima qualità crema viso nutriente altro prodotto questo è tutto prodotto naturale prodotti naturali che potreste trovare solo in farmacie sul nostro sito con tornocchi energizzante trovate al tamarindo e olio di riso molto buono sono tutti i prodotti che io vi consiglio di comprare se li volete andate a vedere sul sito che vi posto qui sotto di vknatura.it e mettete mi piace a me al mio sito che su instagram e anche al sito di vknatura se vi piacciono tutti i prodotti che abbiamo abbiamo anche le versioni grandi sul sito quindi trovate tutto nella sezione linee flower e infruits ciao alla prossima ciao